Il posto da Conti Panzer e Guatmi, un po' più su di esterni, questo momento all'interno del palazzetto non mi stupisce che qualcuno scivoli, non scivola, Pasa Zandalasini si muove in lontananza, Coxp lascia spazio alla penetrazione, mano mancina, Pioferre recupera il rimbalzo, poi palla lunga per Pasa che va per la tripletta, Guatmi non è premiata, poi Cox riesce a rubare, va via in contropiede, contromore, arriva fino in fondo. Spagna Dojkic pronta ad attaccare, aspetta il blocco di Ruperre fuori per Cox che se la sente dalla distanza, non fa rientrare la difesa, poi sfida a sua volta il muro difensivo passando alla fine a trucco, Mur a rimbalzo, va su, palleggio attende un po' prima di iniziare l'azione, sfida Begic, la fa saltare, passo e tiro. 100% ai liberi per la numero 18, poi impegnata in difesa contro Panzera che ribalta al lato per Wadu che se la sente. E segna, adotta allora Dojkic, palla dentro per Petersche, la conclusione, lotta, Mursu Orsili palla dentro per Guatmi che si arrampica dall'altra parte del ferro. Sto andando a memoria ma almeno 6 o 7 saranno già stati presi in questo primo quarto, grande nota. Che assist di Dojkic per Consolini che si andrà presumibilmente all'ultimo tiro del parziale. Due ora Rupert dalla distanza, da tre, provare ora, sì, a sfidare faccia a faccia la Virtus, super, palla di Zandalaseni per il super taglio di Rupert. Maledizione che si è abbattuta sul secondo quarto, Peters contro Panzera si gira, preno tiro, complicatissimo. 31-19 nel punteggio, palla fuori per Panzera, finita la tripla, poi si butta dentro, libera la strada a Mur. Aspetta l'arrivo di Wadu in palleggio la numero 9, scarico per trucco libera, Dotto di prendere la tripla, di segnare. C'è trucco libera, riconsegnato dall'angolo, non si accoppia nessuno, Dotto. Palla in mano con Panzera che corre, Wadu dentro per Mursu Orsili. Che poi taglia ma Rupert se la trova sulle ginocchia, rischia, l'ha recuperata André, Guatmi a tutta velocità dall'altra parte. Dall'azione offensiva ci riesce, solo in parte, grazie al contributo di una compagna. Poi condisce tutto Rupert per mettere l'ingresso offensivo, poi Guatmi da lontanissimo, trucco! Likic poi ancora basa dopo il riconsegnato, palla dentro per Rupert. Il mismatch contro Rupert, ora riposo per Tinar Amor. Wadu, rimane a terra Guatmi, poi Zandalasini in avvicinamento, sbaglia il tiro. Cercare di avere due possessi ancora alla conclusione del pero, intanto però va da Zandalasini da 3, a canestro! Di emergenza panzera, ribaltamento per Trucco che trova nell'angolo, Wadu per la tripla, canestro! Per la giocatrice numero 22 e più 7 Virtus. Palla nell'angolo per Delpero! Tanti minuti da giocare, Wadu in palleggio, si ferma, difficilissimo, senza parabola, su una gamba sola. Likero con Cox, taglio di Rupert, palla nell'angolo però per Doikic, Wadu passa dietro, Doikic, impaleggia adesso il tiro. Sistema la retina. Il margine di svantaggio. Sempre considerato che poi giocherà ancora via.